Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare con voi di Ederson, argomento che mi avete sollecitato in tanti nei commenti e che penso meriti un approfondimento. Come prima ovviamente di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento e cercate di sostenere il canale. Ora veniamo a noi. Ederson voi lo sapete, per me è un giocatore forte ed importante. Quando è stato comprato io ero entusiasta, sono stati spesi tanti soldi per questo giocatore e al momento le aspettative non sembrano totalmente ripagate. Io credo che si debba però essere molto clementi col giocatore perché il giocatore ha fatto tutta una fase di preparazione clamorosa nel ruolo va lui più congeniale, ovvero quello di centrocampista centrale e si è ritrovato, se vogliamo in maniera anche un po' imprevedibile a ricoprire il ruolo d'attaccante esterno non si sa bene neanche il motivo perché sicuramente non è per rispondere a determinate esigenze tecniche. Gasperini ha fatto questa scelta di portarlo spesso e volentieri nel tridente davanti e di conseguenza per un giocatore che in un anno e mezzo è passato da fare il mediano a fare l'attaccante esterno non è così impensabile avere delle difficoltà di lettura, tant'è vero, se poi vogliamo anche aggiungerci, che in quella posizione vengono a volte richieste delle caratteristiche che non sono propriamente le sue, dare palla, bisogno di gioco. Chi ha seguito l'Atalanta durante il ritiro ha visto come Gasperini avesse pensato per Ederson il ruolo di guastatore, il ruolo di giocatore centrale che si va a imbucare, è stato ripetuto in maniera ossessiva il lancio di Cubainers per Ederson durante il ritiro. Quindi, e lì funzionava, funzionava molto bene. Era chiaro a tutti che Gasperini aveva visto in lui le doti di Curtic, le doti di Cristante, insomma quel giocatore che rompe le linee e che ti porta anche una serie di gol importanti. Che cosa è cambiato è difficile da dire, io credo che innanzitutto si è cambiato qualitativamente il centrocampo, cioè l'esplosione di Cup Miners ha obbligatori, e la tenuta di Derona che non è più stato portato in difesa, hanno necessariamente obbligato Gasperini a trovare delle soluzioni differenti per questo giocatore, perché è difficile poter rinunciare a Derona Cup Miners durante una partita. in più, nel ruolo che forse sul reparto offensivo sarebbe più congeniale, ovvero quello di sottopunta, trequartista centrale, chiamiamolo un po' come vi pare, cioè quello sarebbe una seconda punta alla fine. C'è una lista di nomi abbastanza importante da dover comunque sfruttare, quindi ci sono anche delle gerarchie che impediscono probabilmente a Ederson la collocazione migliore. Io resto convinto che il giocatore comunque, quando troverà la quadra, sarà un giocatore importante. Il fatto che venga continuamente impiegato è comunque la dimostrazione che Gasperini ripone parecchie speranze dal giocatore e ha molte aspettative. Se vedete il trattamento che riserva ad Ederson è completamente opposto a quello che riserva per altri giocatori che palesemente non vede o che al momento non ritiene utili alla causa. Quindi questo mi fa sperare che Gasperini sia convinto in qualche modo di poter cambiare i giochi, anche perché, ve lo dico con grande onestà, io credo che nei piani di Gasperini ci sia quello di arrivare alla pausa dei mondiali in questo modo e poi prendersi tutto il tempo per brevettare un nuovo gioco, in modo tale da poter garantire un certo effetto sorpresa alla ripresa del campionato. E ci sono le pedine per poterlo fare. Ederson è una di queste, Bogat è un'altra di queste, insomma potrebbero davvero diventare le armi vincenti del girone di ritorno perché se loro giocassero al meglio veramente ti cambiano, puoi cambiare l'immagine della squadra e insomma tempo che le squadre prendono le misure, prendono le giuste distanze, hai già macinato parecchi punti probabilmente, quindi non so il perché io ho questa impressione che lui farà un colpo tetra, che il mister farà un colpo molto scenico dopo la pausa mondiale. Ederson ovviamente non è neanche l'unico giocatore su cui abbiamo delle aspettative, ci sono anche Mele e Bogat che però rimando a altri video. Ora vorrei proprio focalizzarmi un'ultima cosa su di lui. È un giocatore che anche dal punto di vista fisico è unico in questa squadra, muscoloso, massiccio, lasciatemi il termine dialettale, piantato a terra. È un giocatore che non abbiamo obiettivamente e che necessariamente bisogna trovare il modo di collocare in campo. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate di questo giocatore perché io nei commenti ho visto tanti che si domandano se sta giocando bene, sta giocando male, tanti sono indecisi sul suo futuro, sulle sue possibilità in questa squadra. Io credo che sia presto, troppo presto per etichettare un giocatore che ripeto si trova a dover fare un ruolo completamente stravolto rispetto alle sue standard, alle sue abitudini. Ciò non toglie che comunque è necessario iniziare a vedere dei miglioramenti sia in fase di gioco che in fase propositiva perché poi parliamoci chiaro è per quello che è stato preso. Io comunque resto fiducioso. Voi fatemi sapere un po' cosa ne pensate, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!